Il crudista per definizione è una persona che ha deciso di mangiare tutto o prevalentemente crudo nella sua alimentazione e quindi che ha abolito l'utilizzo dei fornelli, non usa il forno, non usa il fornello a gas, elimina la cottura. Ci sono tante ragioni per essere crudisti, c'è chi sostiene che l'uomo non si è ancora adattato sufficientemente alla cottura, tutti gli altri animali di questo pianeta non cuociono il proprio cibo e se sono allo stato selvatico hanno in genere un'ottima salute. L'uomo è l'unico essere vivente che ha scoperto il fuoco, ha iniziato a utilizzare la cottura ma ha anche incrementato i problemi di salute nella propria alimentazione. Quindi c'è chi sostiene che nonostante sia passato molto tempo da quando siamo comparsi sulla superficie del pianeta, l'evoluzione ancora non ci ha permesso di adattarci completamente alla cottura del cibo. Essere crudisti può essere estremamente semplice, può essere semplice quanto prendere una banana, prendere una mela oppure un po' di lattuga e appunto mangiare in modo molto molto semplice. Certo che chi è abituato magari a cucinare lo può trovare alla lunga un po' troppo spartana, un po' troppo noioso. In realtà la cucina crudista ci permette una grande varietà di esperimenti in cucina perché con l'ausilio di alcune semplici attrezzature come una centrifuga per fare i succhi, un frullatore per creare dei patè, delle salse e in alcuni casi anche l'essiccatore, possiamo trasformare completamente dei cibi che ci sembrano anche piuttosto semplici in piatti molto complicati o comunque insomma molto molto raffinati. Nella cucina crudista possiamo preparare la pizza, il pane, i cracker, i dolci. Quindi è una cucina che ci permette una varietà incredibile di sapori e di sperimentazioni, anche se è completamente nuova, quindi è proprio un ambiente culinario completamente diverso ma niente affatto noioso. Se avete intenzione di aumentare la quantità di cibo crudo nella vostra alimentazione, anche senso diventare crudisti da un giorno all'altro, potete comunque avere qualche piccolo accorgimento a partire ad esempio dalla prima colazione, iniziando a sostituire il classico caffè e cornetto con una colazione molto più energetica, salutare che ad esempio a base di frutta. Se normalmente avete poco appetito, una colazione a base di spremuta di agrumi, di limone, arance e mandarini, già vi dà una buona quantità di vitamine, di liquidi e di enzimi. Se invece siete persone che tendono ad avere molta fame, le banane diciamo che vengono proprio ad aiutarci perché insomma sono molto soddisfacenti. Attenzione a non combinare frutta troppo diversa assieme, gli agrumi e le banane ad esempio non vanno d'accordo fra di loro, quindi cercate di mangiare uno o due frutti ma non mescolate troppo. Dopo una colazione a base di frutta potete anche fare molti spuntini a base di frutta, portarvi sempre qualche mela, se avete molta fame portare un po' di frutta secca, delle nocciole, delle mandorle e poi ogni volta che iniziate un pasto iniziare sempre con una abbondante insalata. In questo modo anche senza rendervene conto la vostra alimentazione sarà già quasi crudista al 60-70% il che è tantissimo. Le due tecniche di modificazione strutturale dei cibi che si hanno nella cucina crudista potremmo dire che sono la fermentazione e l'essiccazione. La fermentazione che poi tra l'altro rende gli alimenti molto più digeribili e li arricchisce di sostanze benefiche come i probiotici ad esempio, è una tecnica che in realtà è millenaria, è conosciuta un po' in tutti i tipi di dieta, di pratiche alimentari e si tratta appunto di far fermentare i cibi con l'utilizzo della pressione e del sale. Pensiamo all'alimento fermentato più conosciuto che sono i crauti, però allo stesso modo noi possiamo fare tutte le verdure fermentate che sono oltretutto deliziose e la struttura proprio fisica del cibo cambia moltissimo, sembra quasi di mangiare un cibo cotto, ma cotto non è anzi, è particolarmente ricco di sostanze vitali e benefiche. Un'altra tecnica di modificazione degli alimenti è quella dell'essiccazione, che non è altro che una disidratazione degli alimenti ai quali viene tolta l'acqua, ma non le sostanze nutritive, per cui i cibi sono molto più gustosi, molto più concentrati, ma rimangono sempre vivi, sempre crudi e sempre ricchi di enzimi. Alcune persone magari sostengono di non riuscire a mangiare molto cibo crudo perché li gonfia, è molto probabile che siano problematiche dovute a un intestino infiammato che va semplicemente rieducato, quindi il consiglio che io posso dare è di cominciare gradualmente con piccole quantità di cibo crudo, piccole quantità di insalato o magari qualche pezzettino di frutta, un po' alla volta, pian piano questo faciliterà la rieducazione del nostro apparato digerente, la purificazione, finché arriveremo a poter mangiare cibo crudo senza nessun gonfiore e senza nessun problema. Chi ha problemi di masticazione può ovviare introducendo dei frullati o delle centrifughe, comunque ci sono molti modi per aumentare i cibi crudi nella propria alimentazione, un po' per tutti.